Nuova puntata per parlare un po' di un argomento secondo me molto importante ed è quello poi del tempo di imparare poi a investire, a investire, a imparare a investire sempre meglio, che poi non significa rischiare sempre di più. Molti confondono questi due concetti cioè imparare a investire, investire meglio e invece rischiare di più e tutto tra l'altro si conteggia nei successi, nel rendimento di breve termine. Quanto invece bisognerebbe progettare sul lungo termine, proprio per questo diciamo che non c'è mai un'età giusta per imparare a investire bene, è sempre una cosa giusta imparare a investire bene, che lo fai a 20-30 ma pure se lo fai a 60-70. Anzi chi arriva a un'età diciamo molto avanzata dovrebbe avere qualche motivazione in più perché se impara a investire bene almeno può tramandare questa cosa che ha imparato con un po' di saggezza si spera a una certa età. Invece chi è giovane ahimè commette quasi sempre uno sbaglio che è lo sbaglio fondamentale che compromette poi tutto il resto dell'investimento e cioè quello di cercare dei grossi rendimenti sul breve termine. Questo perché? Perché ovviamente si hanno dei capitali molto più piccoli rispetto a uno di 30, 40 o 50 senza contare più in allà con l'età. Chiaramente non ha avuto nemmeno il tempo nella stragrande maggioranza dei casi di accumularli questi capitali. E allora tende chiaramente a cercare di rischiare di più per avere dei rendimenti più alti quando inevitabilmente poi fai il cosiddetto passo più lungo della gamba e ahimè perde tutto. Se non perde tutto sicuramente perderà quello che ha guadagnato almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Infatti una delle cose che bisognerebbe fare quando si è giovane è proprio quello di imparare a investire perché una volta che hai trovato una tua metodologia dove ti trovi bene. Questo non significa che devi guadagnare il 20-30 ma nemmeno il 10. Significa avere un guadagno costante sul lungo termine che ti fa stare bene perché psicologicamente devi saperla gestire quella situazione lì e gestirla con strumenti come le criptovalute ti diventa molto difficile se non sai gestire le tue emozioni. Per esempio abbiamo visto ultimamente che il bitcoin è sceso anche del 50% dai massimi tra l'altro è molto facile rimanerci dentro quando hai dei capitali piccoli e semmai sei in guadagno rispetto a se hai dei capitali più grossi. Infatti se cala del 10-20-30% quando vedi poi diminuire il tuo guadagno come dico sempre è difficile poi rimanerci dentro anche perché hai paura che cala ancora di più e tra l'altro le criptovalute calano in maniera molto rapida molto veloce quindi ti danno molto meno tempo di ragionare rispetto a altri asset finanziari. Quindi imparare a investire prima lo si fa meglio è oppure c'è l'alternativa ci sono i consulenti finanziari e quindi farsi aiutare da qualche persona esperta almeno chiedere dei consigli che è il minimo che bisogna fare in questi casi almeno informarsi su quello che si sta facendo. Ma ritornando al discorso dell'imparare a investire bene cosa significa come ho detto prima significa prima di tutto investire su qualcosa che non ti porta ad avere delle emozioni né positive né negative. Cioè si capisce che si sta imparando a investire bene proprio quando il tuo umore mettiamola così non viene influenzato dai rendimenti che fai in borsa o comunque nei mercati finanziari. Ecco in quel momento è chiaro che state investendo bene soprattutto quando chiaramente c'è molta volatilità che per quanto riguarda per esempio le criptovalute è quasi quotidiana questa situazione. Proprio per questo esiste per esempio la diversificazione è uno dei motivi fondamentali per cui suggerisco di investire in ETF almeno io lo faccio quindi è una delle motivazioni perché di solito sono prodotti molto diversificati tra l'altro non sono l'unico che investe in questi strumenti. Anzi qualche giorno fa una persona mi ha scritto e ha detto ma siete tutti uguali consigliate tutti ETF ma se una cosa è un buon prodotto è chiaro che ti consiglia ETF. Poi è una mia opinione nel senso che io non sono un consulente finanziario quindi non do consiglio. La mia opinione è che gli ETF siano degli ottimi strumenti finanziari e che soprattutto le persone che non stanno o meglio che non sono molto informate sui mercati finanziari dovrebbero incominciare a fare quel passo lì invece poi di buttarsi direttamente dalle criptovalute alle azioni singole che sono molto volatili tra l'altro parliamo quasi sempre di azioni che sono quotate poi sul Nasdaq e anche esse sono molto volatili ma come dicevo è quasi naturale per i giovani andare a comprare certi prodotti che ti fanno tutta questa volatilità perché ti possono far guadagnare tanto ma ti possono far perdere pure tanto e si ha sempre questa concezione che quando si comincia a perdere il 40 50 60 70 per cento beh io ormai visto che ci sto voglio proprio perdere tutto e amen quando poi se vai a vedere statisticamente sul lungo periodo bastava aver investito non so un ETF sull'S&P 500 saresti stato più tranquillo perché sarebbe stato meno volatile avresti fatto molto molto meglio come rendimento soprattutto se lo gestivi molto bene o invece di andare a investire direttamente su qualche azione del Nasdaq investire direttamente nel Nasdaq giusto per fare degli esempi concreti il problema è che poi chiaramente non vedi questi rendimenti altissimi che si possono avere con le azioni e mi sa tanto che bisogna andare sui mercati finanziari hanno bisogno queste persone di andare sui mercati finanziari per provarle queste emozioni di poter guadagnare tanto diciamo è l'idea del poter guadagnare tanto che fa comprare questi prodotti che poi alla fine sul lungo periodo non rendono quasi sempre meglio del mercato stesso questo è uno dei problemi principali bisognerebbe invece imparare a investire il prima possibile perché poi una volta che tu hai imparato a gestire bene le posizioni beh non ti rimane nient'altro che accumulare capitale molto semplicemente lavorando quindi una volta che tu hai praticamente uno stipendio oppure hai delle entrate in generale non è detto che devi avere per forza un'entrata da dipendente ma anche da libero professionista da imprenditore lavoratore autonomo mettetela come volete voi però una volta che hai queste basterà accumulare il capitale e chiaramente tutto questo fa il cosiddetto effetto compounding l'effetto valanga l'effetto dell'interesse composto che chiaramente con il tempo ti darà una grossa mano quindi non c'è trucco non c'è inganno non c'è la ricetta segreta quasi sempre gli investimenti hanno una finalità del tutto personalizzata perché una cosa che va per bene per me difficilmente va bene pure per te almeno che che non condividi poi le mie stesse idee di investimento come dico sempre sul gruppo che ricordo è cambiare tutto cambiare subito pensioni sull'economia e la finanza iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e poi ci sono sempre dei servizi come quelli che faccio io dei podcast privati dove parlo e spiego alcune cose parlo di aziende parlo di azioni parlo anche di certificati di investimento ho parlato ultimamente per esempio di cosa conveniva secondo me almeno quello che ho fatto io comprare con la caduta delle criptovalute ho parlato di un certificato di investimento ho parlato di due certificati di investimento ho parlato di un po' di cose patreon.com slash cambiare tutto andateci a dare un'occhiata ci sono i podcast privati su in trading e invece poi si può investire invece qualcosa di più a lungo periodo con un bel portafoglio come ce l'ho io ragazzi con questo è proprio tutto a me dopo questa piccola lezione di vita non mi resta che ricordarvi che come al solito siete sempre sotto il fuoco nemico a me dopo questa piccola lezione di investimento